Tutti insieme per dare vita al manifesto per il futuro dell'ospedale di Chiavenna. Nei prossimi giorni nella città del Mera verrà convocata un'assemblea straordinaria dei sindaci del mandamento per definire le strategie da adottare a tutela e valorizzazione del presidio sanitario del territorio. Un'azione concreta promossa dagli amministratori locali da anni impegnati nel monitoraggio e nella difesa dell'ospedale, punto di riferimento irrinunciabile ed essenziale per l'intero territorio scrivono in un comunicato congiunto Patrizia Pilatti, primo cittadino di mese, presidente dell'assemblea dei sindaci della Val Chiavenna, Luca Dellabita, sindaco della città del Mera e Flavio Regioni, presidente della comunità montana. Dopo incontri, manifestazioni, assemblee e sollecitazioni il nostro proposito, precisano, è quello di proseguire su questa strada. Massimo impegno giorno per giorno per il nostro ospedale, istituzioni unite senza strumentalizzazioni di colore politico. Questo dunque, si legge nella nota, è il momento di scrivere e condividere il manifesto per il futuro del presidio, un documento nel quale sintetizzare in maniera chiara i bisogni in ambito sanitario dei cittadini, dal punto nascita al pronto soccorso fino ai servizi ambulatoriali. Sarà un documento nel quale scrivere in maniera chiara e sintetica ciò che riteniamo essenziale per l'offerta di salute sul territorio. L'invito da tradursi in un atto concreto nei prossimi mesi è rivolto innanzitutto ai sindaci, ma per dare più forza al documento, affermano i promotori dell'iniziativa, serve anche il contributo di tutti attraverso idee proposte ed esperienze personali che potranno essere inviate all'indirizzo mail ilmiospedale di Chiavenna chiocciola gmail.com. L'aiuto della collettività sarà decisivo per aiutare i sindaci nella redazione del documento finale da inviare alle istituzioni e alle autorità sanitarie.